Cari pigiamini, buongiorno, ben svegliati e bentornati all'oroscopo in pigiama di oggi che è mercoledì 6 di luglio. Allora, prima di tutto vi devo dire una cosa. Pigiamini, state guardando la seconda lezione del mio corso astrologico di leggerezza zero pensieri perché io poi vi interrogo a un certo punto così a tradimento come piace a me. Ups! Allora, dunque, oggi... Non è che non ho fatto una piega perché sono professionale, perché non scotta. Allora, dunque, oggi nonostante sia il 6 di luglio e si fa caldo e si suda anche sotto la doccia è la giornata mondiale del bacio e con la luna nel segno del leone che, come sappiamo, è un baciatore folle vediamo che tipo di bacio darete oggi secondo l'oroscopo del giorno. Partiamo dal leone stesso che oggi di baci ne pretende a cariolate e addirittura siete pregati durante la giornata di spedirgliene dall'ufficio via fax o, ancora meglio, via Pony Express, ma vedate a quale Pony Express. Lo scorpione è anche con la luna storta perché, appunto, se la luna nel segno del leone è opposta all'acquario e storta a toro e scorpione, lo scorpione è anche con la luna storta, oggi non si trattiene e bacia talmente tanto che alla fine della giornata gli si sloga il contorno labbra. Il cancro bacia con gli occhi chiusi che, come si diceva quando eravamo ragazzini, è un bacio sincero e intenso. La Vergine gode di questo Giove, gode di Giove, che è trigono a Plutone, quindi si lascia andare. Oggi bacia in pubblico e bacia addirittura appassionatamente, anzi direi che oggi la Vergine ingorda di baci come di biscotti al cioccolato. Il Capricorno a Venere in opposizione, lo sappiamo perché è venere nel segno del cancro da qualche tempo, qualche giorno, diciamo, quindi il Capricorno, che già è freddino di suo, a Venere in opposizione, ma forse un bacino pudico sulla guancia ad aspirapolvere, però quello che corre succhio, cioè particolarmente intenso, potrebbe sciogliere anche questa situazione. I gemelli sono i re dei baci sotto casa, quelli dell'arrivederci, quelli anche un pochino malinconici. Oggi i gemelli sono così, baceranno anche la carta della caramella prima di buttarla via, perché oggi i gemelli si affeziona. L'arriete con questo caldo non vi bacia certo di sua spontanea volontà, per un bacio solo e ben fatto potrebbe però essere accettato. L'acquario con la luna storta non bacia di solito e non inizia certo a farlo oggi. I baci al massimo ve li dà un'altra volta quando ve li riterete davvero. I pesci con tutti i pianeti a favore baciano per dimenticare. Così, invece che farsi un bel vodka tonic, i pesci baciano per dimenticare. Pesci siete meravigliosi. Il toro è un ingorto di baci, lo sappiamo. È un ingorto di baci di solito, ma oggi con la luna storta potrebbe essere a dieta. E quindi potrebbe fare lo scocciato oggi il toro. E al massimo darvi un bacetto solo, ma soltanto se c'è l'aria condizionata. Il sagittario dà baci soltanto con degli scopi seri, lo sappiamo, in questo periodo è così. E decide che invece di dichiararsi bacia senza sosta. Infine, la bilancia con venere in quadratura, lo sappiamo perché è nel segno del cancro. Prima di baciare vi fa un sacco di domande. Quindi se volete baciare una bilancia, due sono le possibilità. Uno, prendere l'iniziativa. Due, lasciare perdere e farsi mettere i bacini nel frigo per domani. Bene ragazzi, oggi quindi è il giorno del bacio. Io voglio vedere qua sotto i vostri baci o almeno saperli raccontare, sapere quanto baciate, raccontatemelo. E noi ci vediamo domani mattina con il prossimo oroscopo in pigiama. Mi raccomando ragazzi, corso astrologico di leggerezza. Un bacio grande a tutti. Ciao, ciao!